Abbiamo anche la testimonianza diretta di Francesco che è risultato studente del secondo corso e che si trova qui con noi oggi alla pizzeria dell'Impossibile. Antonio? Sì, Francesco è uno che ha fatto il secondo corso con noi. Ma diciamo, ma questo è il terzo che ci fa. Francesco ci sta con noi, è stato per tanto tempo con noi perché è piccolino e quindi lui è uno dei nostri punti di forza. Tenga presente che siamo stati a fare il Pizza Expo a Salerno e lui da solo ha infornato 1200 pizze. Quindi Francesco spero che lascerà la nostra scuola quando partirà per grandi traguardi. Com'è stata questa esperienza per te? Sia il corso e poi come ti stai trovando qua? Benissimo, devo ringraziare la situazione Scugnizi che mi ha dato questa occasione di imparare un mestiere molto importante che va ricercato in tutto il mondo e anche i fratelli la bufala che ci stanno sostenendo. Ti piace? Sì, è un mestiere dove si guadagna molto, dove è ricercato e dove devo lavorare molto, è faticoso. Che consiglio daresti ai tuoi coetanei su questo progetto? Di fare questo progetto perché è molto interessante, è molto bello e si fanno esperienze fantastiche. Grazie.